Piero Gipardo e Stefano Nava, ovviamente in diretta, collegati dall'Emirate Stadium. Ciao a tutti. Ciao Pierre. Grande emozione assistere a una partita in questo stadio. Ecco la formazione dell'Arsenal. L'allenatura ha optato per un 4-5-1 che sembra nettamente sbilanciato in avanti. Questo è l'undici della squadra ospite. L'allenatura ha scelto di mandare in campo una formazione piuttosto equilibrata. Classico 4-4-2. Stefano, chiede bene. Giru. Cerca la porta. E Lidio va via. Il gol di Sanchez. Tutto perfetto. Il passaggio e il tiro. Nulla da fare per il portiere. Un gran gol. Iniziato da uno splendido assist. Recupera bene il pallone. Terami. Grande parata. Che riflesso. E c'è il gol. E c'è il gol. C'è il gol. Casorla. E possono festeggiare il gol del vantaggio. C'è spazio in avanti a sé. Ibarbo. Il portiere. Dice di no. Corner importante. Manca poco. Ibarbo. Prova il volo. Hanno pareggiato. Tutto da rifare. Sì. Grazie a tutti.